Al Grande Fratello, Federico Massaro confida a Fiordaliso di essere attratto da Anita Olivieri. Pur consapevole che tra loro non ci possa essere alcunché, è deciso a esplorare questo sentimento. Nella casa del Grande Fratello, le sorprese non mancano e il tempo trascorso insieme dai partecipanti può dare vita a sentimenti inaspettati. È quanto accaduto a Federico Massaro, il quale, dopo una serata trascorsa in compagnia, inclusa Anita Olivieri, sembra aver subito un mutamento d'umore, notato da Fiordaliso. Federico confida a Fiordaliso il suo interesse per Anita. Non è un segreto che il modello abbia nutrito un certo interesse verso Anita Olivieri. Tuttavia, dopo un periodo di vicinanza, ora si rende conto di provare qualcosa di nuovo. Fiordaliso è stata la prima a notare il cambiamento e, avvicinandosi a lui, ha commentato, da quando sei tornato, sembri diverso. Federico, sai che ciò che cerchi è impossibile. È qualcosa di inarrivabile e non voglio che tu soffra. Ma il cantante sembra determinato a non ascoltare i consigli di Fiordaliso riguardo ad avvicinarsi ad Anita. Voglio accettare tutto ciò che viene. Voglio incontrarla. Cosa posso fare? Non posso fare nulla. È successo, non è stata una mia scelta. Non posso negare di provare interesse per qualcuno, se lo provo. So che con lei non c'è alcuna possibilità, ma mantengo sempre una speranza. Una volta ho detto di no, ma poi, dopo averci parlato, è cambiato in un sì. Inoltre, Federico ha continuato a esprimere i suoi sentimenti e le emozioni provate in presenza di Anita, confermando la volontà di conoscerla senza aspettarsi nulla in cambio. Forse non voglio neanche che cambi idea, ma voglio conoscere la sua vera essenza. Non avrei dovuto soffrire. Eppure quando l'ho vista, il mio cuore ha battuto forte. Ho provato una sorta di attrazione, come fanno i bambini. Mi piace la sua compagnia, mi fa ridere. So di non avere speranze, ma divertirmi con lei è un'esperienza che non provavo da tempo. Anita Olivieri è già impegnata. Anita ha più volte chiarito di essere coinvolta sentimentalmente, sebbene il suo partner non sia comparso negli ultimi mesi. Secondo quanto dichiarato agli altri coinquilini, la loro relazione ha una certa durata, ma ha attraversato anche momenti di separazione. Di recente, la geffina ha espresso la sua malinconia, confessando, mi manca, non so cosa mi riserverà il futuro.